Ciao a tutti amici come state? Noi siamo qui in una riserva naturale Fionnora che abbiamo già visitato più volte ma oggi siamo in canoa. Siamo venuti a fare un po' di canoa su questo lago della riserva e poi da qui possiamo vedere anche le zone ideali per i funghi. Infatti passiamo proprio a filo della riva questo lago e da qui inizia la foresta e quindi buttiamo il nostro occhio lungo le pendici qui che si tuffano nel lago per vedere se ci sono dei funghi così poi magari tra qualche ora quando rientriamo possiamo percorrere i sentieri che ci conducono qui e raccogliere i funghi che abbiamo avvistato. Ci sembra una cosa insolita ma qui in Svezia è possibile anche questo si può far funghi si può avvistare i funghi dalla canoa. Ciao amici ci vediamo al prossimo stop da Fionnora. Ciao